La sua posizione è stata archiviata nel procedimento penale scaturito dall'inchiesta antimafia Exitus. I difensori del 55enne Benedetto Rinsivillo, operatore nel settore dell'ingrosso di Carni, hanno prodotto una memoria che atteste il fatto che le accuse anche di mafia siano cadute davanti ai giudici del Tribunale delle misure di prevenzione di Caltanissetta. Il PM ha così chiesto di non applicare nessuna misura di sorveglianza. Un passo indietro dell'accusa, probabilmente decisivo dopo il coinvolgimento nell'indagine Exitus a Rinsivillo, venne contestato di essere uno degli uomini di fiducia della boss sessantenne Salvatore Rinsivillo. Venne arrestato ma già all'esame gli avvocati Joseph Donegan ed Emanuele Maganuc ottennero l'annullamento del provvedimento e l'immediata scarcerazione. Dimostrarono che il 55enne non avrebbe mai finanziato il gruppo di Cosa Nostra, limitandosi solo a svolgere la propria attività lavorativa. Partì comunque una procedura per imporgli la sorveglianza speciale. I legali hanno prodotto il provvedimento che di fatto esclude collegamenti di Rinsivillo con i clan davanti alla scelta dell'accusa che ha chiesto di non applicare la misura proposta dalla Questura. I giudici nisseni del Tribunale delle misure di prevenzione decideranno entro i prossimi 30 giorni.